Città più verdi, più vivibili, più ecosostenibili e anche più resilienti. In una parola contemporanea città smart. L'Intelligent Cities Challenge, letteralmente la sfida delle città intelligenti, è un'iniziativa della Commissione Europea che supporta 100 città nell'utilizzo di tecnologia all'avanguardia per guidare una ripresa intelligente e socialmente responsabile. Le città che aderiscono all'iniziativa insieme ai loro ecosistemi locali saranno motori per il recupero dell'economia locale, creando nuovi posti di lavoro e rafforzando la partecipazione e il benessere dei cittadini. Il Comune di Pescara è stato per la seconda volta selezionato dalla Commissione Europea a far parte di questa rete per incentivare la transizione energetica e digitale, creando opportunità per le loro comunità imprenditoriali. Come dire, una nuova sfida che il sindaco Carlo Masci accoglie a braccia aperte. Non soltanto abbiamo accolto questa sfida, ma la stiamo conducendo migliorando le condizioni della nostra città e soprattutto la qualità della vita dei nostri concittadini, perché l'obiettivo è quello di semplificare la vita alle persone e questo New Local Green Deal della Commissione Europea va verso questa direzione e Pescara viene selezionata evidentemente perché in questa sfida sta raggiungendo risultati importanti, perché Pescara è una città giovane, moderna, che guarda all'innovazione sempre in maniera positiva e oggi grazie anche a questa collaborazione piena con Pescara Energia, che è una società 100% del Comune di Pescara, riusciamo a cogliere degli obiettivi che in passato ci erano preclusi. Sulle scuole, per esempio, abbiamo fatto grandissime operazioni grazie a un finanziamento Bay, quindi della Banca Europea degli Investimenti, proprio mirato sulla transizione ambientale che per noi non è soltanto una bella frase, ma ha un contenuto concreto di atti che poi fanno in modo che, per esempio, nelle nostre scuole i ragazzi, gli alunni possano vivere in ambienti più confortevoli, perché noi abbiamo non soltanto efficientato da un punto di vista energetico le nostre scuole con cappotti, infissi nuovi, per mettere i ragazzi nelle condizioni migliori, ma abbiamo anche realizzato attraverso Pescara Energia una serie di impianti fotovoltaici, 14, che ci permettono di produrre energia non soltanto per le scuole, ma anche da portare all'esterno e quindi portando all'esterno questa energia possiamo realizzare le comunità energetiche, che sono un altro obiettivo, un altro tassello importante in questo discorso della transizione ambientale, perché così mettiamo i cittadini, non soltanto quelli che hanno impianti fotovoltaici nelle loro case, ma anche quelli che ne sono sprovvisti, in condizione di poter partecipare alle comunità energetiche e quindi avere un guadagno in termini economici, quindi di tariffazione e un miglioramento in generale della condizione ambientale della città, perché se noi produciamo energia attraverso il fotovoltaico vuol dire che possiamo eliminare una parte di consumo prodotto dalle energie fossili, dai prodotti fossili e quindi andiamo verso questo New Local Green Deal. Green Local Deal, quindi patto verde locale, quindi parte dal basso questo patto, questa è una cosa importante. La forza di questo patto è proprio quella che parte dal basso, noi abbiamo un Local Green Deal, ma anche un Local Blue Deal, perché oramai il discorso della transizione ambientale si muove sulla spiaggia, sul mare, sull'energia e sul discorso digitale, anche sul digitale oggi noi siamo all'avanguardia, quattro anni fa eravamo al 66esimo posto in Italia, adesso siamo al decimo posto in Italia per quanto riguarda la digitalizzazione. Oramai noi arriviamo dovunque con i servizi, senza che il cittadino debba venire qui in comune per ottenere una risposta, perché riusciamo a dare tutti i servizi attraverso il discorso digitale e questo perché in questi anni abbiamo fatto molti passi avanti, già sulle telecamere, noi abbiamo 500 telecamere che controllano la città, i cittadini non se ne accorgono, ma questa città è molto controllata, così come abbiamo una sensoristica che ci pone all'ottavo posto in Italia. Noi superiamo città molto più grandi di Pescara, che sembrano molto più all'avanguardia di noi, ma non lo sono perché noi oramai le abbiamo superate abbondantemente, però questo ce lo riconoscono dovunque. Dicevo prima, seconda volta che la Commissione Europea sceglie Pescara tra le città italiane più virtuose, avete avuto una prima esperienza con la mobilità, con il trasporto, com'è andata questa esperienza? La cosa bella è che poi veniamo selezionati per situazioni diverse, siamo stati selezionati per i trasporti e per la mobilità e abbiamo portato i nostri esempi di attività virtuosa sulla mobilità, quindi l'acquisto dei mezzi di trasporto pubblici elettrici, gli interventi che facciamo nelle scuole con il Pedibus, le piste ciclabili realizzate, io lo dico sempre, anche nei giorni scorsi quando sono stato a Gaeta per la bandiera blu, perché quello è un altro fiore all'occhiello che ci portano tutti quanti come esempio, sono andato e ho spiegato che a Pescara abbiamo quasi 50 km di piste ciclabili che corrispondono al doppio della media nazionale tenendo conto dell'ampiezza del territorio e sono numeri importanti perché gli altri non li raggiungono questi numeri e invece noi riusciamo a cogliere questi obiettivi che ci mettono all'avanguardia in Europa e quindi sulla mobilità abbiamo ottenuto grandi risultati e siamo andati a spiegarlo alla Commissione Europea e negli incontri che facciamo fuori dall'Italia, non in Italia. Nel caso dell'anno scorso siamo stati a Barcellona e quest'anno andremo a Porto a dire quello che abbiamo fatto per le energie e per le comunità energetiche, quello che abbiamo fatto nelle scuole, quello che abbiamo fatto negli edifici pubblici e soprattutto quello che continueremo a fare perché non è che ci siamo fermati qui, noi stiamo portando avanti un programma molto intenso che ci permetterà in pochi anni di avere tutti gli edifici pubblici con l'energia a costo zero, anzi con l'energia da mettere a disposizione dei cittadini. E tra qualche giorno dal 19 al 21 aprile a Pescara ci sarà Ecomob Expo City 2024, un grande appuntamento per esaminare il futuro del turismo attrattivo. Ancora Masci. Parteciperemo ad Ecomob e vogliamo che Ecomob si organizzi al centro della nostra città. Partecipiamo con Pescara Energia che è la società che si muove in quest'ambito del risparmio energetico e degli interventi che riguardano in generale l'energia e il consumo. Ma Ecomob è una iniziativa importante che ovviamente si rivolge a tutta la nazione, si svolge a Pescara al centro della nostra città ma nello stesso tempo porta avanti un discorso culturale perché noi andiamo nelle scuole a spiegare che cosa vuol dire risparmiare energia. I nostri bambini nelle scuole sanno che la luce si deve spegnere quando si esce da una stanza, sanno come si fa la raccolta differenziata, sanno come si fa il porta a porta, sanno già che devono comunque vivere in un mondo in cui l'energia è fondamentale e il risparmio energetico è ancora più importante. Io quando vado nelle scuole a consegnare la bandiera verde che le nostre scuole ottengono perché noi siamo la città che ha la rete più grande di eco school in Italia perché facciamo attività di sostenibilità ambientale nelle scuole per oltre 20.000 ragazzi, un numero impressionante. Quando spieghiamo ai bambini queste cose lo facciamo perché loro possono tornare a casa e soprattutto spiegarlo ai loro genitori perché da questo punto di vista non sono stati abituati, purtroppo non siamo stati abituati come i nostri ragazzi che invece sanno come vivere in un mondo che oggi considera l'energia fondamentale e l'ambiente ancora più importante. Per addentrarci ulteriormente sugli obiettivi che si intende perseguire con questa nuova sfida sentiamo Giovanni Caruso, direttore tecnico di Pescara Energia. Il programma prevede entro il 2050 le emissioni zero, lancia agli cittadini, le imprese e gli enti al centro del progetto tramite degli accordi verdi, i Green Deal. Questi accordi prevedono appunto di stipulare un accordo tra il cittadino e la pubblica amministrazione in cui si prendono degli impegni reciproci per arrivare all'obiettivo che è quello appunto di ridurre le emissioni tramite due possibilità, la riduzione dei consumi e la realizzazione di nuovi fonti di energia da fonti rinnovabili. Il fatto del 2050, emissioni zero nel 2050 è un auspicio, è un obiettivo reale secondo lei? Beh queste date prima del 2020, 2030, oggi 2050 sembrano essere degli obiettivi non raggiungibili ma in realtà le nuove tecnologie e i nuovi sviluppi che ci sono è anche una partecipazione sempre molto più attiva da parte dei soggetti coinvolti, ci fa capire che questa volta l'obiettivo non solo è raggiungibile ma deve essere raggiunto. E comunque c'è anche da dire che il bisogno di energia in linea generale aumenta sempre, quindi bisogna anche puntare su nuove fonti energetiche, c'è questa possibilità, quali sono? Oltre a quelle più tradizionali che già conosciamo? Beh diciamo che le fonti di energia alternativa sono le classiche, nel senso l'energia solare, l'energia eolica, l'energia nel teleriscaldamento, più che nuove forme di energia sono nuovi modi di utilizzare questa energia, un esempio concreto sono le nuove comunità energetiche che stanno nascendo recentemente che danno la possibilità non di produrre diversamente l'energia ma di condividerla e quindi di sfruttare l'energia prodotta su un sito anche in altri siti come ad esempio nelle abitazioni dove non è possibile realizzare l'impianto fotovoltaico. Una cosa da mettere in evidenza in questa fase per quel che riguarda proprio il progetto che si chiama, lo ripetiamo, Intelligent Cities Challenge, quindi una sfida per città più intelligenti, più smart, come si usa dire, è il fatto che le città stesse, quindi Pescara, non accedono direttamente a dei fondi ma hanno dei supporti però tecnici importanti. Beh sì, la sfida è proprio questa, la sfida è quella di riuscire a raggiungere dei risultati importanti senza dei veri e propri contributi economici da parte dell'Europa. L'Europa ci mette a disposizione i mezzi, gli strumenti per costruire da soli, da soli l'amministrazione insieme ai cittadini, insieme alle imprese, un percorso che possa arrivare alla riduzione dei consumi e alle emissioni zero. Ecco, tutto questo anche in una fase ulteriore successiva per trovare poi dei fondi europei. Sì, certamente, poi dopo l'obiettivo può essere raggiunto come? Andando alla ricerca di finanziamenti europei che sono assolutamente compatibili con lo strumento e oltre al finanziamento da parte dei privati che possono trarre enormi benefici sia sociali ma anche economici ed ambientali all'interno di questo programma. Lei, direttore tecnico di Pescara Energia, avete già iniziato da oltre un anno questo percorso virtuoso. Vogliamo ricordare un po' anche a chi ci sente che percorso avete già fatto? Sì, noi siamo all'avanguardia in questo ambito. Abbiamo già costituito la prima comunità energetica, il CER Pescara, la comunità energetica di Pescara che ospiterà tutti i soggetti che vogliono farne parte, sia cittadini, sia imprese, sia anche altri enti istituzionali, come ad esempio i comuni limitrofi o altre associazioni di categoria. Abbiamo già realizzato e portato in esercizio sette impianti da 100 kilowatt che non solo hanno reso del tutto autosufficienti gli edifici che li ospitano, quindi le scuole su cui abbiamo realizzato gli impianti, ma stanno generando un'enorme quantità di energia in esubero da condividere appunto con la cittadinanza. Ci accingiamo adesso a breve ad aprire le porte alla cittadinanza tramite delle manifestazioni di interesse. Un'ultima cosa, a questo punto le chiedo quali sono gli ulteriori passi che intendete compiere? Adesso il prossimo passo che sarà è quello che dopo aver creato un modello funzionante da seguire, che è quello dei CER Pescara, quello di far conoscere a tutti i soggetti, gli stakeholder interessati all'iniziativa, quello di far capire che il modello esiste, il modello funziona, è facilmente replicabile sia attraverso l'unione all'interno della nostra comunità energetica, ma anche creando altre possibilità. E a proposito di passi da compiere, poiché ogni città della Comunità Intelligence Cities Challenge avrà l'opportunità di essere ospitata da una città mentore e di conoscere quindi sul campo le loro storie di successo, Pescara si candida a diventare città guida. Sì, oggi in questa sfida noi siamo tra le 100 città intelligenti d'Europa, adesso puntiamo a diventare fra le prime 5 d'Europa, perché vogliamo diventare città mentor, cioè città guida per tutte quante le altre. Io penso che sia un obiettivo ambizioso ma raggiungibile da Pescara. Grazie. Grazie.